buongiorno a tutti ragazzi e ragazze allora c'è da dire che mi sono svegliato che stavo tipo così tutto tremando perché ovviamente è tornato diego e ieri mentre stavo facendo la live di là nell'altro sito viola lui mi ha spento il riscaldamento solo che non l'ho più riacceso quindi oddio sto piangendo muoio e quindi ho un freddo assurdo ora l'ho riacceso ma perché perché spengermi il riscaldamento comunque benvenuti in questo nuovissimo vlog ho già visto che è diluvia oggi siete a fare un po' di cose quindi ci bagneremo prima di fare qualsiasi cosa vi devo far vedere anche a voi su youtube che non mi seguite su instagram che michele bravi mi ha mandato questo suo nuovo album che io amo 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 l'ho ascoltato tipo su spotify appena uscito e ora me l'ha mandato con un bigliettino con scritto ciao cristiano ti regalo questo disco per accompagnarti nei prossimi viaggi buona musica michele carino nuova ship andate tutti ad ascoltarlo ed acquistare il cd in negozio adesso siamo in zona gialla possiamo ragazzi scusate ma io sono in coma praticamente da diciamo due settimane adesso con questa è la seconda siamo entrati nella seconda quindi in realtà sarebbero sette giorni con questo 8 che sto provando una nuova cosa a parte che sto mangiando ora la pasta così non so sono scemo comunque siccome voi sapete che avevo preso un ritmo in questi ultimi anni un po' barbino nel senso che andavo a letto tardissimo mi svegliavo tardissimo ora da qualche giorno a questa parte ho iniziato un po' ad anticipare la sveglia tipo la scorsa settimana l'avevo messa alle 11 questa settimana l'ho iniziata a mettere tipo alle 10 e mezzo che lo so che in realtà è sempre tardi però per me piano piano da voglio portare tipo verso le 9 così 9 e mezzo per riprendermi tutto il aspettate un attimo che devo mettere gli spagetti stavo dicendo devo riprendere un po' il ritmo normale di quando andavo a scuola perché così non si può andare avanti raghi anche perché così mi petto tutta la mattinata e poi quando mi sveglio sono rintronato però insomma queste prime volte sono un po' difficiluotte anche perché tipo la sveglia ok poi mi metto mi lascio un po' a letto così e faccio no non ce la faccio non ce la faccio però ci sto riuscendo piano 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 chissà magari tra un mese riuscirò a svegliarmi alle 9 ma guardatelo quelle sue nuove cuffie che non sente niente guardatelo guardatelo può ridere per un reels da tre ore allora raghi ho mangiato la pasta col tonno col tonno col tonno allora mi è venuto in mente adesso che praticamente domani è il compleanno di una mia amica e mi ha invitato a mangiare il sushi a pranzo dato che comunque adesso possiamo per un massimo di quattro persone mi ha detto avrei piacere che tu venissi quindi siccome io so che lei è super 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 fissata con sailor moon sono qua su amazon a vedere dei gadget che sono sicuro che sarà sarebbero tipo i regali perfetti per lei e li faccio vedere perché tanto dal momento in cui sarà online questo video gliel'avrò già dato avevo pensato tra le varie cose di prendergli il carillon con la musichetta quella che a me fa piangere basta poi mi piaceva anche questo però è da bambine quindi no le carte direi di no ero indecisa però anche con la borsetta la borsetta è super sghiccia l'amo super sghiccio anche il vetro del mio ipad che è tutto rotto se no avevo pensato anche allo specchietto e anche tra le varie cose a questa collanina che sicuramente lei indosserebbe boh mi sa che prenderò un po' di cose vi faccio sapere tanto è consegna un giorno domani me lo dovrebbero consegnare e poi posso andare al sushi presi allora alla fine gli ho preso gli ho scelto la borsetta e che ho preso poi? oh mamma aspetta mi è venuto un duro ah e il carillon perché mi sono ricordato che lo specchietto io lo avevano regalato tipo l'anno scorso se non mi sbaglio comunque lo specchietto già ce lo aveva e la collana non mi convinceva sicuramente sarebbe stata la cosa che gli sarebbe garbata di più però insomma mi arriva tutto entro domani quindi ho preso il carillon e la borsa speriamo che gli garbi questa roba e soprattutto c'è già anche tutto il pacco regalo con il bigliettino personalizzato così poi anche nel caso dovesse arrivare tipo in ritardo è già tutto pronto lo prendo e vado ma a proposito di regali io non so se avete assistito alla mia live a quella di chiara ieri dove finalmente ci siamo scambiati regali e soprattutto li abbiamo spacchettati in diretta con voi per chi non mi dovesse seguire qua sotto nell'info box c'è il link diretto per andarmi a seguire anche nel sito delle live diciamo così e cosa è successo lo dico anche a voi perché così almeno vi rendo per te anche se con un giorno di ritardo praticamente martedì cioè ieri ma per voi ieri l'altro è scesa chiara qui a milano perché aveva appunto una visita dal dentista e tutto quanto solo che ci dovevamo tipo vedere per cinque minuti no prima che lei tornasse a casa perché poi c'è il coprifuoco un casino quindi non si poteva stare tutto il giorno insieme ma ha fatto tardi col dentista scusate il viso ma mi devo ancora truccare ma ora scoprirete il perché e quindi cos'è successo mi ha mandato matteo il suo fidanzato io mi sono visto con lui io gli ho dato i pacchetti quelli appunto di guci che ormai erano tre mesi che li avevo qua in camera da dargli a chiara che lei poi ha aperto in live e lui mi ha dato il regalo che chiara mi ha fatto per natale che è questo di Dior e l'ho spacchettato appunto ieri e ve lo faccio vedere anche a voi perché veramente è pazza è pazza vi faccio vedere mi ha regalato la felpa di Dior quella mia preferita quella che io amo ma che non ho mai comprato perché appunto costa tantissimo e quindi adesso me la provo ecco perché non sono ancora truccato perché non la voglio sporcare dato che è bianca voglio vedere questa come farò a lavarla OMG io adoro mamma come morbida eccoci qua cioè è bellissima è una L che è perfetta come calza perché qua è bella perché è un tipo un po' over però la lunghezza è super adatta le maniche super lunghe super le amo e poi è super bella cioè guardate c'è anche dettagli qua con scritto Dior la scritta l'amo 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 è bellissima il cappuccio poi io lo amo e devo dire che mi sta anche bene carine quindi poi ieri durante la live appunto ho fatto un elogio a Chiara ma non per il regalo ho fatto diciamo un riassunto di tutto quello che lei ha significato per me e continua a significare in barba chi dice che la nostra amicizia è falsa dopo un anno siamo ancora qua è già è già ma non è finita qua perché sempre Chiara è stata così brava che ha fatto ricavitare anche un regalo a Diego che adesso vi faccio vedere che è quello che vi avevo già fatto vedere prima mentre spiavamo Diego prima quando ridevi per il Reels e sono le cuffione nuove della Apple che tra le altre cose vi appoggio un attimo qua ma non sento più niente ma mi sento io adesso perché sono collegate sono collegate a te e perché io ora mi sento che parlo le amo insomma io queste poi siccome ovviamente erano dentro il sacchetto ma non erano impacchettate quindi le avevo già viste dal pomeriggio le avevo mandato un messaggio a Chiara e ho detto guarda Chiara quel regalo a Diego io gli dico che non è per lui ma è per me me le tengo io cioè guardate come mi starebbero bene con questa selpa e con i miei capelli cioè è proprio il mio colore e poi non si sente niente oh Gesù muoio bellissimo amo e quindi così io un po' geloso vabbè tanto gliele ruberò sicuramente se invece volete sapere cosa le ho regalato io o andate sul suo profilo quello sempre delle live e guardate la live di martedì oppure boh non lo so se lei lo farà ah penso che ci faccia anche lei tipo un vlog per provare le cosette perché aveva detto così però non si sa mai però io nel caso non ve lo spoilero e rimango qui in compagnia di questa felpa super bella l'amo quanto è scema Chiara quanto è scema e tra le altre cose si è messa anche a piange ovvio ovvio l'amo adesso raghi sono in bagno non vi faccio tutta la trafila del mi preparo con voi perché tanto mi avete detto che la schippate tutti ma mi preparo un attimo perché faccio la live adesso invece di stasera perché di solito la faccio sempre verso le 20 e mezzo 21 ma siccome stasera non posso farla quindi ne approfitto dato che oggi cioè ieri non vi ho caricato neanche un video vi avevo detto che avrei fatto una live quindi ci vediamo dopo la postazione di oggi sarà questa mi sono messo così a letto e sceglieremo diciamo il computer nuovo perché dopo appena finirò questa live vi racconterò delle cose ok abbiamo fatto questa live di un'oretta vai mi si è spento anche l'ipad vi devo far vedere una ossa vabbè ve lo faccio vedere dal computer allora perché oggi abbiamo parlato un pochino del mio nuovo computer perché entriamo un attimino allora ragazzi diciamo che con questa mia nuova esperienza io non posso diciamo continuare a lavorare in questo modo nel senso che voi sapete che io sono mesi che devo cambiare il computer poi lo dovevo prendere a novembre ma alla fine siccome mi si era anche al tempo stesso rotto il telefono che mi serviva molto di più del computer che poi ho detto vabbè il telefono di là quell'altro è rotto non mi funziona più mi serve anche comunque per telefonare per rimanere in contatto con tutti e anche poi Instagram le varie cose comunque bene o male i video li posso anche montare da il telefono quando poi ci sarà quello nuovo che è questo qua con cui sto registrando adesso che è il 12 Max Pro farà video anche molto più belli quindi diciamo che posso per qualche tempo rimandare l'acquisto importante del computer ma prima o poi andava fatto e va fatto perché mi serve per lavorare adesso poi che devo fare le live e le sto facendo soprattutto tutti i giorni ho notato che ho comprato diciamo tutto l'ambaradam per attaccarci la macchinetta fotografica per fare le live migliori e come fanno tutti diciamo fatto sta che riscontro sempre problemi nel senso che mi tocca fare le live dal telefono con tutte le limitazioni del caso perché mi si blocca la live quando uso il mio computer che tra le altre cose è vecchio del 2015 e proprio non ce la fa più e mi appaiono quelle benedette righe verticali che avete visto anche in qualche video fa quindi oggi in live abbiamo deciso abbiamo suelto il nuovo computer da comprare che ve lo volevo far vedere ma mi si è spento l'iPad quindi vado sul sito della Apple e dopo tanto parlare in tantissimi hanno detto che va benissimo questo abbiamo scelto il nuovo MacBook Pro 13 pollici grigio siderale con il chip M1 e ci abbiamo cambiato la memoria penso sia tipo l'hard disk la RAM qualcosa del genere insomma invece che da 8 l'abbiamo messa a 16 perché così è molto più potente e può sopportare più cose insieme e l'archiviazione a me mi va bene anche un 512 giga senza strafare anche perché nel caso io ci metto le chiavette e pubblico tutto lì il Final Pro non mi serve Final Cut Logic Pro nemmeno quindi il totale verrebbe tipo 1939 euro che comunque è una spesa super grande ma va fatta perché io non posso continuare così ad usare solo il telefono per fare tutto quello che faccio l'ultima l'unica cosa è che la consegna me la stima dal 19 febbraio e non c'è la possibilità di ritirarlo all'Apple Store quindi mi sa che domani su per giù passerò in Piazza Liberty oggi no perché sta piovendo non lo so però non si sa mai se esco anche oggi passerò oggi che è vero che ci vuole l'appuntamento però sai ci sono un po' lo mini lì fuori una domanda mi possono rispondere perché voglio chiedere se innanzitutto posso comprarlo in negozio per averlo subito o se esiste questa possibilità del ritiro e del perché in internet mi dice di no perché io mi serve mi serve mi serve mi serve anche anche per il fatto del montaggio di video perché ok in questi mesi ce l'ho fatta bene o male con i movie del telefono però non so se l'avete notato l'avete notato anche voi che quando ci metto il filtro è come se mi abbassasse un po' la risoluzione e quindi ok sì mi piace però insomma insomma ragazzi quando istima non vada starbucks starbucks vada istima l'unica cosa è che poverino gli si è rotto il sacchetto e me l'ha diciamo buttato tutto in terra vabbè anyway cosa ho preso ho preso una nuova bevuta nel senso che non l'ho mai presa vediamo cosa è rimasto eh oh era crollatore mio è normale ovvio ma perché regalano comprono i vesti eh perché mi sponsorizzano così mango e mega allora il regalo di oggi è lo smoothies però questa volta mango e frutto della passion adoro ora l'abbiamo bevuti tutti poi c'è l'americanos di diego ah bellino da qua che non li impascivano bianchi così e poi io ho preso questo questo immagine copertita ho preso questo che è freddo ma non mi ricordo ciao mamma guarda sono in televisione ah no youtube che cosa posso dire dov'è lo scontrino dai guarda lì che ha fatto quello me l'ha rovinato comunque ho preso caramelize almond qualcosa con latte scremato e in più lo sciroppo di caramello e un coso in più insomma assaggiamolo aspetta e mi serve la cannuccia Marco sarà molto fiero di noi buono buono però devo prendere la cannuccia ma cos'è questa roba devo andare di là allora aspetta che qui tutto vabbè lo capo dopo sfrattato dalla mia stessa cucina deve lavorare deve fare una lezione online ma eccole le mie cannucce di starby adoro buono 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 e come ormai vi ho abituato durante i miei vlog è arrivato il momento vi consiglio le serie tv o film del giorno oggi la serie che vi voglio consigliare l'ho praticamente finita in mezza serata diciamo si tratta di Bonding questa qua praticamente cos'è è appena uscita la seconda stagione ovviamente io ogni volta che vi parlo di qualcosa del genere non è sponsor e nel caso in cui fosse sponsor ve lo dico ovviamente però Bonding è uscito tipo l'anno scorso e sono uscite le prime puntate con la prima stagione è una serie molto carina le puntate durano poco 16-20 minuti su per giù e parlano di una ragazza che è diciamo una mistress e poi di un ragazzo che è diciamo un po' gaioso che loro due erano compagni di classe mi sembra di scuola c'è stato anche un trascorso tra i due ma iniziano a lavorare insieme non vi dico di più perché non vi posso spoilerare nulla ma adesso che è uscita anche la seconda stagione ci sono altre tanti sette episodi è una cosa bellina io l'amo l'amo è la serie tv di questa settimana che vi consiglio fatemi sapere se vi piace se l'avete già vista se magari dato che adesso ve l'ho consigliata gli darete una chance e quindi poi quando la vedrete fatemi sapere qua sotto tramite commento se vi è piaciuta oppure no io ci vedo un po' in realtà la diva del tubo e me stesso medesimo come se si dovesse fare una serie tv sarebbe bonding quella mia e sua amo troppo amo so che magari vi starò annoiando ma davvero io è mezz'ora che sono seduto qua a guardare il nuovo computer perché lo voglio comprare ma facciamo che aspetto Diego che finisca di lavorare e poi dico se mi dai il via lo compro perché tanto è inutile rimandare ve l'ho già detto le mie motivazioni e direi a questo punto molto meglio spendere tanti soldini ma che comunque mi servono per lavorare per migliorare e per fare tutto il mio lavoro a modo piuttosto che comprarmi altre cosette però ogni volta io ora ora dopo il dopo che ho comprato l'iPhone mi viene l'ansia a comprare le cose della Apple sul loro sito online perché non vorrei che succedesse il casino di sempre a regola se compri solo una cosa non dovrebbe risuccedere però boh allora ragazzi ci siamo ho parlato con Diego lui mi ha detto si prendilo poi ho parlato anche con un ragazzo che era in live che lui è molto esperto e mi ha detto quali sono i modelli che possono servire a me per il tipo di lavoro che devo fare e quindi siamo qui riuniti finalmente in direttissima non era programmata ma è successo tutto oggi mi prenderò il MacBook Pro grigio siderale 13 pollici con 16 giga di memoria unificata e un'archiviazione di 512 giuiga quindi aggiungiamolo al carrello vai alla cassa però aspetta perché prima dovrò loggarmi accedi perché non si sa mai accediamo prima ok che ansia ogni volta che cos'è ansia 2 no vabbè allora mi era preso un corpo ho detto com'è possibile che quando ho loggato mi è venuto tutto questo prezzo c'è scritto 2 non voglio fare come Chiara che ha comprato per sbaglio 2 iPhone quindi metti 1 1 mostra dettagli prodotto perché non si sa mai 16 memoria 512 giga ok display retina ok 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 l'Apple Care lo faremo poi più avanti tanto c'è la possibilità di farlo più avanti metti il tuo cap dovrei ordina se io ordino ora cosa che farò dovrebbe consegnarmelo dal 19 febbraio al 26 febbraio ho scoperto che il ritiro all'Apple Store non è al momento disponibile ma semplicemente perché probabilmente non lo avranno andiamo alla cassa speriamo che mi accettino il pagamento perché è un po' tanto vuoi accedere all'Apple Store con il mio ID è certo con quale password e chi se la riorda penso sia questa non è questa come non è questa è impossibile ok accedi per accelerare il pagamento proviamo cosa vorrei ah farmelo spedire o lo ritirerò io non può essere non è idoneo ma che vuol dire che non è idoneo scusa non può essere ok quindi fammelo spedire consegna prevista ok vai all'indirizzo di spedizione è questo modifica voglio vedere ok sì l'indirizzo è giusto formazione di contatto fammi mettere il mio numero di telefono che è questo qua ok vai al pagamento come vuoi pagare paghiamo con questa allora qual è la mia carta che ansia ora sicuramente non me l'accetteranno sicuro ok cvv ok indirizzo di fatturazione ok e quindi che devo fare rivedi il tuo ordine ma non ho pagato ancora invia ordine speriamo ah c'è un secure ah è vero mi dovrebbe arrivare il messaggio adesso ho bisogno ho bisogno del personal pin ancora un attimo devo entrare dall'app allora ragazzi ho dovuto fare un casino perché pensavo di aver già sistemato la situazione della carta con la mia banca però a quanto pare non andava bene adesso ho passato 20 minuti ad come si dice sistemare tutta la situazione con la carta con la protezione degli acquisti online con i codici e tutto quanto quindi andiamo riproviamo a paguare dovrebbe andare ok è sempre questo chip m1 16 giga ok sì 512 ok la carta è quella invia ordine ora c'è questa sezione di secure ok ci dovrei mettere a regola il pin inserisci il codice che ti abbiamo inviato ma com'è che ti abbiamo inviato ma è il codice che uso io no un attimo non mi vogliono far comprare questo benedetto computer non mi arrivava il codice e poi mi è arrivata quando ho annullato l'ordine però adesso l'ho rifatto ora dovrebbe andare ho inserito il codice corretto il pagamento è in corso non chiudere la pagina cosa deve succedere ora daje 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 che ci siamo fatto yeah abbiamo comprato il nuovo computer eccolo qua in consegna 19 febbraio 26 febbraio io spero che mi arrivi prima però adoro adoro adesso se non mi arriverà un'email in questi giorni come è già successo tipo il pagamento non è stato accettuato accettuato dovrebbe andare tutto bene vi farò ovviamente sapere se mi arriverà prima oppure no ma io non vedo l'ora sono super contentissimo e adesso mi vado un attimo in bagno a preparare devo fare la cacca in realtà perché faremo una specie di aperitivo un attimino fuori a casa di un amico non vi preoccupate siamo in quattro quindi andrà tutto bene poi è per questo che non posso fare la live stasera perché l'ho fatta prima insomma così ah un po' di vita sociale ragazzi finalmente sono uscito siamo in metro di questa raga ovviamente piove stiamo andando a casa di un amico per fare una specie di aperitivino e quindi io direi che per il momento ci possiamo salutare qua tanto il vlog dura abbastanza spero che sia almeno mezz'oretta e di avervi fatto compagnia quindi fatemi sapere se anche voi avreste scelto quel computer se ho fatto bene se ho fatto male quello che volete qua sotto tramite commento iscrivetevi al mio canale e lasciatemi un like se vi ho fatto compagnia anche oggi e scusate per ieri che non vi ho pubblicato niente in questo momento non non stiamo vedendo niente praticamente sembra buio muoio muoio ciao a domani ciao a domani ciao a domani